Marco Dolfin, consigliere regionale della Lega a sostegno di Mauro Ormelau, come sta andando la campagna elettorale? Buongiorno a tutti, va bene, siamo in campagna elettorale nel cuore del centro storico di Chioggia, siamo qui presenti tra la gente e con la gente a dimostrazione che a differenza di qualcuno che si fa i video da casa con le bandiere dietro le spalle come Al-Qaeda, noi siamo qui invece in piazza appunto a portare avanti le problematiche ascoltando le problematiche dei nostri concittadini e lo slogan stesso lo dice, parla da solo, il sindaco tra la gente, Mauro è qui con noi, Mauro Ormelau e sta parlando come potete vedere tranquillamente con le persone per ascoltare, capire, recepire tutte le dinamiche, le problematiche che esistono, che ci sono purtroppo sulla nostra città e che dal giorno 3-4 ottobre speriamo di poterle affrontare in maniera diretta amministrando la città di Chioggia. Come potete vedere dallo slogan, oltre allo slogan i simboli che compongono la coalizione centrodestra, Lega, Chioggia protagonista, la lista civica di appoggio, la lista di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Finalmente abbiamo un centrodestra unito nell'interesse collettivo e dunque l'auspicio da parte nostra è quello che i cittadini riescano a capire che solo con centrodestra si può finalmente cambiare le sorti di questa città. Io approfitto anche per cercare di far comprendere più possibile questo indirizzo perché ne va della capacità poi anche di comprendere quella linea, quel contatto, quel rapporto che c'è poi in maniera diretta con la regione Veneto e soprattutto poi con la filiera, con il Parlamento e con l'Europa. L'altro giorno abbiamo avuto, non erano in città, abbiamo avuto ospiti importanti del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale, proprio a dimostrazione di quella filiera che la Lega e il centrodestra ha con tutte queste realtà istituzionali. È a maggior ragione avere un sindaco della Lega Chioggia con una regione dello stesso colore darebbe veramente la possibilità a questa città essere collegata al mondo, alle realtà economiche, sociali e quant'altro e avere quelle risposte immediate che servono a questa città. E dunque l'invito che faccio il 3-4 ottobre a tutti i cittadini di Chioggia di andare a votare e votare appunto per il centrodestra, per la Lega e per tutta la coalizione del centrodestra.